E niente, ci siamo, siamo arrivati a fare Niente, ci siamo appena entrati dentro, quindi Vabbè, niente Pazienza Warning, radiation hazard Ah, ma questo è un sentiero Tutto ghiacciato Oddio Oddio, ragazzi No, vabbè Che spettacolo, ragazzi Vai, Franceschi Bellissimo Hanno usato una tavola Oh Guarda se incaschi io tutta la tavola Allora, dobbiamo andare a quel faro, però non sappiamo dove andare Forse... Eh sì, perché là è chiuso, vedi, c'è la telecamera Vedi che c'è scritto su quel cartello Che dire, qui c'è pure un osservatorio astronomico Veramente astronomico questo osservatorio E niente, che dire Eh, quella è la scaletta per scavalcare Quale? Ah, è vero Bello Che spettacolo Che spettacolo C'è la scaletta per scavalcare Bellissimo Poi quando chiude Tolgono la scaletta E non fanno scavalcare più nessuno Giustamente Oh Vabbè, ragazzi Concordiamo dunque la versione che è stato Adrian Oddio, uscita Uscita Che possiamo vedere sta purezza Cioè, quindi qua è tutto chiuso Ah no, è aperto Allora possiamo andare E' questa strada No, ma perché c'era sulla mappetta Che c'ho io qua La salina tratteggiata Ma cerca un po' Tratteggiata che significa Che ve lo dico a fa Oddio Sta ammazzato Che ve lo dico a fa Ciao, guardate che roba Che spettacolo Ma che so Che uccelli sono quelli Cioè, guardate che uccellini Wow Non lo so che sono Sembrano delle Delle occhie Delle papere Che spettacolo Ho detto che spettacolo Ah, guardate qui C'è proprio una pozza Di acqua congelata Anche qui Che roba E niente Ci siamo Siamo arrivati a fare Che ci sta là Che si vede Cioè, questa Questa cosa Si è congelata Qua dentro È vero Guarda che è stato Attentico Di tanto Ci stanno Le urbe Sì Guarda Da c'è Acqua pesca Ah, sì Niente Niente È chiuso il faro Che dire Siamo arrivati fino a qua E non possiamo Entrare dentro il faro Ah, quella è un'antenna Per la tv del faro Che c'è dentro Che dire Attenzione a come ti muovi Che qua ti possono sparare A vista È uno spazionato Quindi È un'area È una Restrict area Oddio Un geyser Oddio Spettacolo È una parte del mare Ragazzi Eccola Eccola Oh 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 Nartra Raga Oh 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 Ho trovato un esemplare strano In Island Guardate Un pacchetto Di pazzoletti Della Tempo O Gempo No Penso sia Tempo Andiamo a vedere Quella lapide Guardate Il sasso Sembra un mini pezzo Di Stonehenge Eccolo Guardatelo È più alto di meno Due metri di Forse un metro e novanta Di masso Bellissimo Incastonato a terra Wow Voglio andare più di qua Perché ho visto degli uccelli Bianchi Che si trovano in mare Speriamo di trovare anche qualche foca Dicono che qui ci sono le poche Però È difficile trovarle Eccoli Se vedete quei piccoli puntini bianchi O neri In mezzo all'acqua Sono Sono degli uccelli Anche un cimitero di gomme per auto Sì è pieno di uccelli qui Eccoli Stanno volando Mi hanno visto E sono volati via Oh guardate qui Che spettacolo Lì Sono tutti uccelli Qui c'è uno piccolo Non so che cos'è Sembra un passerotto Ma quanto sei bello Oddio Guardatela Questo Bellissimo E lì ce ne sono in abbondanza Pezzettini di ghiaccio Ogni tanto il mare arriva pure fino a qua Ma eccolo È salito sopra A quel masso Bellissimo Oddio Stiamo attenti che Lì c'è una paperella Ah un altro Eccolo Guardate quanto sono piccoli Guardate questo fiumiciatolo Oddio che cos'è quella cosa Ah niente Boh Non lo so Roba che galleggia Passiamo Non so cosa c'era qui Però prima c'era qualcosa Non so che ci hanno fatto Forse qualche gru Sembra tipo I supporti Le basi Forse qualche porto c'era Non so Guardate qui Un po' un vialetto In cemento Abbiamo trovato una molla No aspetta Aspetta dove li fa Rimbalza però Non male Perché è un po' Eccola Pure una spiaggetta Guardate lì Anche qualche uccellino Questo e quello Chissà quanto fanno pagare L'ombrellone Quellettino Bisogna chiedere Niente Non si passa che c'è tutta la straccionata Quindi dobbiamo andare verso Verso di là All'ingresso principale Che dire Volevamo vedere qualche poca Ma niente poche E' difficile trovarle Niente ci siamo appena entrati dentro Quindi Vabbè Niente Pazienza Warning Radiation hazard Una zona alto rischio magnetico Niente Siamo rovinati Ah vuoi anche farti una doccetta qui Guardate roba Però sono chiuse Dalle 12 alle 18 Non so perché Sì è un'arena È un'arena È un'alce Era un'alce Non sappiamo se è un'arena Montone o un caprone Lui dice caprone No Io dico Che dici? Montone Lui dice montone Lui dice renna Ti che dici? Io dico una mini alce Diverse da quello Ma che cazzo dite Porta Troia Shock Era un'arena Fammi vedere la foto Della renna Era un'arena C'era quel colore lì C'era quel colore lì Era così Era così C'era un'arena Che c'era quei cornellati Non così piano Che spettacolo A metà Tra le due velocità Cioè quella è una sorta di cascata tutta ghiacciata in pratica Ma guarda che spettacolo queste montagne Wow A parte che è quasi tutta ghiacciata Spettacolo Clamorosa Ah ma questo è un ruscello alla fine Guardate Oddio Mi sono infilato nell'acqua Ah ma questo è un sentiero Tutto ghiacciato Oddio Stavo appena per dire che È tutto ghiacciato Ma che sta facendo Pia Wow In teoria La cascata principale È quella là sopra Ma È congelata Quasi Quasi Mi fa servare Aspetta Attenzione Eccezionale Eccezionale tu ti vado a fare morte in diretta ragazzi che spettacolo e la cascata principale doveva essere tipo lì è tutto ghiacciato quindi niente vabbè ci accontentiamo di questa piccola cascata qua sotto cioè pensate abbiamo visto pure una renna selvatica così speriamo di vederne altre più che altro guarda qua questo è un buco che roba ci entrano le dita niente per la sfortuna di Franceschino dovevamo vedere una sedia rossa niente l'hanno spaccata sono rimaste solo le gambe ci spiaggo oddio raga no vabbè che spettacolo ragazzi sono tipo scappate qua sotto niente mi vedono vediamo se le riesco a ribeccare di là ecco le stanno scappando lì mi guardano ok adesso possiamo dire che sono renne vera che sa? erano montoni sono montoni vai con Michael Bublé c'è oggi che è il 22 dicembre 23 22 dicembre i cavalli in pratica siamo in una zona dell'Islanda in cui non c'è proprio niente quindi quanto manca a quella 57 minuti alla prima città utile oddio oddio il faro di Hvalnaz dovrebbe essere questo qui non si fa perché non si fa però non si fa Come si chiama? Muldping? Muld? Muldping? Che ve lo dico a fa? Cioè, guardate che roba, mamma mia. Sta pure nevicando. Che spettacolo. Wow. Non fate come me, eh. Non passate mai il guardrail. Che pericoloso. Cioè, guardate qua che roba. Wow. Che poi due mesi fa stavo a Gran Canaria e c'era la stessa cosa ma in versione estiva. quindi, senza neve. Bellissimo. Bellissimo. Stavola c'è la serie là. Ok, let's go! Da litaggi? No, non chiedo. Ma perché lui è del migliore. Ah. Segno della croce, raga. Oddio! Oh, non l'ho manco sentito. Wow. Penso se lo... Siamo arrivati a Diopi-Vogur. Siamo arrivati a Diopi-Vogur. Siamo arrivati a Diopi-Vogur. C'era il cartello. Cioè, c'è in pratica solo questa... Questa casa qua. Che è molto alla fine della strada. Bellissima. 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 Ah, ma questi sei piccoli del fuoco, raga. Bellissimi. E poi non so cosa servono. I piccoli del fuoco di Islanda con queste temperature. Wow. Bellissima, ragazzi. Sì, ma... Quella è un'altra chiesa. Bellissima. Spettacolo. Wow, guardate questo. Eccolo, il Chior Poutine con il Vim Poutine. Cioè, ragazzi. Spettacolo. 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 Guarda che spettacolo questa casettina, cioè. E' totale. Ti vuol dire che è totale? Sì, ma no. Si vuole qualche più fai. Il Chior Poutine. E' sicuramente. Wow, che spettacolo. Allora andremo qua, a Chior Poutine. Neviga pure.